Inaugurata a Pordenone la Villa delle Rogge, una sorta di residence con nove posti letto per adulti autistici, aperto sette giorni su sette. L'avveniristica struttura in via Roggiuzzole è gestita dalla Fondazione Bambini Autismo e rappresenta un modello residenziale avanzatissimo, unico in Italia e in Europa. Le persone vengono ospitate a turno, in tal modo la casa accoglie oltre 20 ospiti la settimana. Insomma, non un istituto di assistenzialismo permanente e passivo, ma una palestra dove si apprende l'autonomia. Palestra di vita perché le persone che vi abiteranno impareranno delle autonomie, impareranno a farsi il letto, a fare la spesa, a cucinare eccetera. Non vogliamo assistenza, vogliamo riabilitazione, vogliamo educazione, vogliamo che questi ragazzi diventino persone il più possibile autonome e che anche in futuro, nella loro vita, abbiano bisogno di livelli di protezione bassa. La casa, progettata per ospitare al meglio i disabili autistici, è costata un milione e mezzo, coperto da privati, regione e provincia. Sono strutture fondamentali, importantissime per il benessere di persone che non certo per loro volontà ma per loro sfortuna si trovano in condizioni di disagio. Io ho detto che la priorità dell'istituzionale è proprio di puntare su queste strutture, cioè aiutare nel campo sociale e sanitario le persone che più hanno bisogno. Poi vengono tutte le altre priorità. Nel dibattito tra cultura e non cultura io dico che bisogna sì garantire aggregazioni, iniziative e manifestazioni, ma prima pensiamo al sociale, al lavoro e a chi ha più bisogno.